Proseguono gli aggiornamenti in merito all'omicidio di Pierpaolo Panzieri, il giovane 27enne ucciso con 15 coltellate lo scorso 20 febbraio nell'appartamento di Viagavelli nel centro storico di Pesaro. L'autore del feroce omicidio, Michael Alessandrini, si trovava in stato di fermo in Romania e nella giornata di giovedì è tornato in Italia. Il trentenne pesarese, atterrato a Roma come da prassi, è stato pretrasferito nel carcere di Villa Fastigi, dove questa mattina si è svolto l'interoratorio di garanzia. Come è andato l'incontro con il suo assistito? Penso sia andato molto bene, è stato un incontro abbastanza lungo, quindi iniziato alle 10.30 e terminato quasi alle 14.00. Alessandrini ha inteso rispondere su tutto, è stato molto preciso, giustamente ha dato le sue motivazioni, la ricostruzione dei fatti, ha spiegato quello che a suo giudizio è un movente. Posso sentirmi di dire con certezza che non è un movente passionale, non è dovuto a gelosia, ma lui ritiene di aver adempiuto a una voce divina che in quel momento per determinati motivi che ora non sto a riferire, perché potrebbero essere oggetto di approfondimento da parte degli organi inquirenti, comunque lui ha adempiuto a questa voce che gli diceva di far fuori questo malfattore che poi è appunto il Panzieri. Posso sentirmi anche di dire serenamente che dal suo racconto non si evince alcuna premeditazione, il classico delitto sorto in quel momento per tutta una serie di ragioni che anche qui non sto a dire, quindi il classico delitto d'impeto in quel momento.